Ciao a tutti, sono Cristiano Perna, architetto di interni. Siamo in casa del signor Busi, al quale abbiamo ristrutturato la cucina e realizzato una cucina su misura, una nuova cucina. Facciamo qualche domanda al nostro cliente. Come avete conosciuto il Dere Casa? Il Dere Casa l'abbiamo conosciuto tramite mia figlia che si è servita per la tua azienda in passato e si è trovata molto bene. Perfetto, un buon passaparola quindi. Ci siamo incontrati in studio, abbiamo fatto il preventivo sia della ristrutturazione sia dei mobili. Che cosa vi è piaciuto e perché ci avete scelto? Allora, ci è piaciuto il fatto che tu hai pensato a tutto e se no dovevamo fare noi, dal mobiliere all'elettricista, al muratore, a tutto insomma. Invece così noi abbiamo visto solamente l'inizio e la fine. Quindi il pacchetto chiave in mano è quello che ti è interessato, ok? Per quanto riguarda la nostra cucina, c'è qualcosa nello specifico che vi piace? Sì, a noi piace tanto, piace il colore della cucina. Perfetto. Grazie a voi che avete aiutato a scegliere il colore, è venuto molto bello. A voi mi piace tantissimo il piano induzione. Il piano induzione. È un divertimento veramente, veramente piace tantissimo. Bene. Per quanto riguarda sia il muratore, l'idraulico elettricista che i falegnami, hanno lavorato bene? Avete, come dire, notato qualcosa che non va nel loro lavoro? Tutti hanno lavorato, dal primo all'ultimo, con professionalità e serietà. Perciò non possiamo dire niente, all'incontrario della contentezza e del lavoro come è stato fatto. Bene. Ultima domanda. Consigliereste di avere casa ad amici e parenti? Lo stiamo già facendo. Stiamo già dando il nostro consenso alla gente che, se vuole ristrutturare e prendere mobili nuovi e fare un lavoro dall'inizio alla fine, senza dover diventare matto, tra le virgolette, consiglio vivamente di ideare casa. Bene. Ringraziamo il signor Busi e al prossimo video. Ciao. Arrivederci. Grazie mille di tutto. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.